Ciao maestro, la prima parte del video di Geografia, la Toscana. La Toscana a nord confina con l'Emilia e Romagna, a sud confina con il Lazio, il Mar Tirreno e il Mar Toscano, a est con il Marche e l'Umbria e a ovest con il Mar Arcipelago e il Mar Ligure. La Toscana è la regione più estesa d'Italia. Nella zona settentrionale e quella orientale, la maggior parte del territorio è occupata dalle colline. Al suo interno si trova l'Appennino tosco-emiliano e come fiumi tiene l'Arno e l'Ombrone e poi le coste sono basse e sabbiose e il clima della regione in montagna è fresco. e in montagna, no, in collina è fresco e quando sei giù dalla collina è normale. E le colline con le quali colline conosci di Toscana? Dove producono anche un buon vino. Le colline metallifere. No. E le colline metallifere? No. Ah, le colline dei Chianti. Mmh. Ok. Prima parte del video di geografia.